vediamo i solidi di estrusione con il comando estrudi noi possiamo estrudere sia delle curve, quindi saranno generate da superfici, sia delle curve chiuse e da queste saranno generati dei solidi quando io seleziono un profilo come si può vedere mi dà la modalità la possibilità di scegliere la modalità e mi specifica che in questo momento sta generando un solido se seleziono una curva aperta ovviamente il sistema mi genera comunque una superficie mentre traccio l'altezza della superficie quindi la direzione di estrusione che sarà perpendicolare alla base io posso anche scegliere la direzione e la traiettoria vediamo di tracciare adesso una semplice estrusione con un certo orientamento quindi con una distanza scriviamo 10 ora proviamo a fare una estrusione di questa curva chiusa è un'elisse chiusa e per prima cosa scelgo la modalità modalità SU superficie e scelgo anche una direzione D quindi il digito D e vado a selezionare il primo punto quindi seleziono un vettore e il secondo punto quindi la direzione di estrusione questa è una superficie non è un solido di estrusione vediamo un'estrusione della stessa elisse ma in modalità MO solido SO quindi adesso sto facendo un solido e traiettoria o direzione seleziono la direzione la direzione sarà lo stesso punto di prima e quindi ho generato lo stesso solido inclinato però questo punto è un solido non è una superficie la traiettoria è la stessa quindi la direzione in quel caso vediamo un'estrusione a partire da un profilo di base che è questo che è una regione sto generando quindi un'estrusione per solido me lo dice il sistema invio e a questo punto gli dico però seleziono una traiettoria che è questa come si può vedere ha seguito la traiettoria nello spazio e ha generato un solido quindi un profilo solido lungo la traiettoria una volta generato però il sistema cioè il mio solido segue il profilo quindi se io sposto edito il profilo e lo sposto il solido segue cambia il profilo e quindi cambia la direzione quindi la traiettoria di estrusione questo è un solido che può essere anche tranciato quindi a tutti gli effetti è un solido pieno che è un solido quindi la traiettoria